Salottiamoci, è uno speciale che stiamo dedicando alle realtà imprenditoriali della nostra Puglia, in particolare dell'area del nord barese. Noi siamo all'interno degli uffici della Globeco, che è una delle realtà imprenditoriali più serie, più interessanti e sicuramente più meritevoli di attenzione, se non altro perché fra qualche mese la Globeco festeggerà il suo decennale di attività, il che non è poco per un'azienda, una realtà che si occupa di problematiche particolarmente serie. Io sono, dicevo, in compagnia della signora Loredana Lezoche, che è la coordinatrice nonché responsabile commerciale di questa realtà imprenditoriale. Grazie per la cortese disponibilità. Allora, chiariamo subito, quando parliamo di Globeco, che cosa intendiamo? Quando parliamo di Globeco sicuramente parliamo di un'azienda innovativa, un'azienda attenta all'ambiente, in questo momento con molte problematiche, quindi tutti quanti stanno interessando all'ambiente. E quando parliamo di Globeco parliamo di un'azienda diversa dalle altre, quasi unica nel suo genere. Parliamo di un'azienda che sicuramente recupera del rifiuto al 95% di tutto quello che entra in questo impianto, in questo stoccaggio. Quando parliamo di Globeco parliamo di una realtà che è stata una delle prime, forse primissime in Italia, ad occuparsi di RAE. Il RAE che cosa è? Banalmente è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quando parlo di RAE, parlavamo dieci anni fa, ci guardavano tutti in maniera un po' storta, chiedendoci ma che state facendo, di che cosa trattate? Poi il RAE è diventato il business negli anni, il business del futuro, tutti quanti anche le multinazionali sono affacciate e hanno creato anche grossi impianti. Globeco per opportunità economiche, chiaramente questo non l'ha potuto fare e si è sviluppata pian piano con i propri passi, enfatizzando però lo smontaggio e l'assemblaggio manuale di questo particolarmente rifiuto. Cosa succede? Che è vero che gli altri hanno usato gli impianti, è vero che le multinazionali sono cresciute da questo punto di vista, però è anche vero che questo sta creando per loro grandi disagi, perché l'elettronica diventa sempre più piccola, elettronica è sempre meno, come si dice, con pezzature sempre in micro e quindi questo cosa comporta? Chiaramente che il rifiuto diventa piccola quantità. Globeco che cosa enfatizza? Enfatizza il disassemblaggio di queste apparecchiature cercando di recuperare il materiale prezioso che c'è all'interno, cosa che diventa un pochino più complicata mettendone un impianto. Se mi permette, allora poiché dieci anni di attività non sono pochi, noi fra un attimo mostreremo ai nostri telespettatori anche alcune fasi operative dell'attività che voi svolgete. Sì sì certo, fra un attimo poi passeremo direttamente proprio a mostrarvi realmente che cosa avviene. Però ecco, in dieci anni cosa è cambiato? In dieci anni cosa è cambiato? È cambiato che sicuramente il rifiuto per cui Globeco è nata, per cui l'idea di Angelo Messina era venuta fuori da una lettura di un articolo, era quello sicuramente di risolvere il problema un pioniere, certo, dell'elettronico che sicuramente quando noi pensiamo a un regalo da fare pensiamo all'elettronico e quindi i quantitativi, i volumi sono tanti, sono importanti e quindi quando dieci anni fa ci siamo avvicinati a questa realtà è anche vera che abbiamo trovato apparecchiature contenenti materiali preziosi perché non conoscendo ancora altri materiali da poter fungere grazie alla tecnologia in dieci anni, lo vedete benissimo voi, dei computer che prima erano cinquant'anni fa, era veramente una casa, oggi siamo a un dieci centimetri comprendete bene come era importante dieci anni fa fare attenzione a questo rifiuto e come sicuramente diventa interessante scoprire altre tipologie di rifiuto, dove hanno ancora questa componentistica. Parliamoci chiaro, questo significa impegno, aggiornamento, informazione, ricerca. Questo significa di uno studio quotidiano sulle problematiche ambientali, su rifiuti, su rifiuti nuovi, sulla ricerca di comprendere come farli rientrare in vita. Rientrare in vita non significa, come si può vedere magari come in questo momento è di moda, ridarlo con un mobile, ridarlo con un quadro. Rientrare in vita significa dar lavoro a tanta gente, significa recuperarlo, riciclarlo e darsi la materia prima, invece di svilupparla da un'altra parte, avere la materia prima in casa per poter chiaramente realizzare altro. Una prima e ultima osservazione, stiamo parlando del 95-96% del materiale che viene recuperato, cioè praticamente non viene buttato niente o quasi. Niente praticamente, tranne quei rifiuti, ahimè, che non hanno ancora una destinazione ben corretta, ben precisa, è che purtroppo va in discarica, ma veramente una percentuale editoria, globecco e ho vantaggio di dire, ho l'onore di dire che in discarica noi praticamente non ci andiamo e che tutto quello che entra in questa azienda studiamo sempre e comunque per portare la possibilità di tornare a vivere come materiale di riciclo. Allora, signore, se ci permetterà, adesso mostreremo alcune fasi proprio di operazioni veri e proprie di questo smaltimento, di circolaggio, eccetera, per cui abbiate la gentilezza di seguirci. Ascoltatori, riprendiamo la passeggiata che abbiamo avviato all'interno degli uffici della globecco e come vedete siamo adesso nelle fasi operative veri e proprie, siamo diciamo proprio nell'area dove effettivamente vengono effettuati una serie di manovri, di controlli, eccetera. Ecco, signora, adesso ci dovrebbe spiegare, visto che è passato appena un camion, che ci spieghi cosa è accaduto. Beh, qua è l'inizio praticamente dello stoccaggio di globecco, cioè tutti coloro che entrano all'interno di questo impianto vengono sulla pesa, la pesa che è fornita con dei contattori gaiga, che sono con loro praticamente le attrezzature che controllano la radioattività di rifiuto che in entrata o in uscita ci dovessero magari esserci, con tutte le autorizzazioni che permettono anche, grazie a questo, di poter andare direttamente in fonderia qualora si avesse questa autorizzazione che si chiama 333. Il massimo proprio della garanzia in sostanza. È il massimo della garanzia che ogni azienda dovrebbe avere e che sicuramente il globecco si sta attivando per tutte le procedure del caso. E qui entriamo in un discorso, come dire, più di natura burocratica, amministrativa, che spesso costituiscono, diciamo, i problemi più grossi. Beh, il rifiuto sicuramente è un settore dove di problematiche burocratiche ne è veramente tante e non a caso prima di entrare in questo impianto ci abbiamo messo tre anni. Quando parliamo di problematiche di burocrazia parliamo da sottosuolo, quindi dal dono su di geologia che abbiamo fatto fare di qua ai 500 anni, parliamo delle migrazioni degli uccelli se non passano per le emissioni di atmosfere, delle autorizzazioni delle acque, parliamo delle autorizzazioni per i codici CER, per quali rifiuti possono entrare e non entrare, quali si è trattati e quali non trattati. Le problematiche ambientali sono tantissime, giustamente, perché solo questo ha permesso al globecco di crescere in questa maniera in questi anni. Noi ne siamo lieti, anche perché volevo cogliere l'occasione, visto che abbiamo dato un'occhiata al camion, evidentemente il camion arriva da chissà dove, ecco i vostri rapporti anche sul piano del lavoro si spingono fino a dove? I nostri rapporti di lavoro in questo momento posso dichiararlo che sono a livello italiano, quindi proprio in questo momento il nostro camion sta ritirando del materiale da Milano, pensiamo a una delle poche aziende che ritiriamo del materiale dal nord e lo portiamo giù perché lavoriamo tutto quel materiale che gli altri non vogliono lavorare e che mandavano prima all'estero, cosa ovviamente pericolosissima e cosa poco opportuna e dove lì globecco ha come suo simbolo che puntualmente cerca di mettere, globecco made in Italy, significa lasciamo rifiuti in Italia, non mandiamoli all'estero. Diciamo che può essere anche una scelta di tipo affettivo o c'è anche qualcosa di commerciale? Assolutamente no, affettivo sicuramente perché no, però andiamo a una spiegazione un pochino più particolare, più significativa. Il rifiuto trattato all'estero viene trattato senza autorizzazioni, senza queste procedure burocratiche che noi in Italia dobbiamo adempiere giustamente. All'estero come abbiamo visto in Cina viene trattato tutto il materiale senza regole, sfruttando tutto quello che può essere dal minore alla persona e lavoratore, invece qua quando dico rifiuto made in Italy significa dar lavoro soprattutto al nostro popolo che già è molto carente, significa lasciare la materia prima e seconda nella nostra nazione e di questo anche ne abbiamo bisogno invece di comprare all'estero, significa avere un vantaggio a livello ambientale per non far ritornare il nostro rifiuto sotto forma di giocato, sotto forma di altro ma inquinato. Amici ascoltatori, purtroppo noi siamo costretti a sintetizzare e a condensare tantissimi concetti in poco tempo, però io devo ringraziare la signora della sua estrema sinteticità e chiarezza. Però per terminare vorremmo mostrarvi ancora dell'altro, abbiate la bontà di seguirci. Quando dico globeco elettronico, quando dico leader nel settore, almeno nel centro-sud, dico questo, dico materiale elettronico che raccogliamo, materiale elettronico che entra tramite i nostri colleghi e altre aziende, materiale elettronico che entra e che viene stoccato, viene poi posizionato, viene controllato, visionato, posizionato in alcune ceste che vengono riportati poi nel reparto dove ora vi porterò per il disassemblaggio e la lavorazione di tutto quanto le materie prime e seconde. Mi tolgo una curiosità, caro signora. Allora, qui sono circa 5-6 mila metri quadri, un capannone enorme, ma quanta gente ci lavora? In questo momento siamo a circa 25 dipendenti e la cosa interessante, dove sono orgogliosa di dirlo, non abbiamo nemmeno uno straniero, questo perché chiaramente la crisi comporta del personale in esubero qua in zona, ma devo dirlo è che sia sempre stato così dal primo anno che abbiamo iniziato questa attività di dare spazio ai nostri giovani, al nostro sud che sicuramente ha delle sorse molto interessanti. Sono d'accordo, nel senso che qua c'è sempre tanto da vedere, da illustrare e per cui amici ascoltatori seguiteci ancora perché la signora ha ancora qualcosa da mostrarci. Interessante, quando vi dicevo del disassemblaggio e del prechiuto elettronico che abbiamo appena visto, alla fine cosa succede? Abbiamo questa tipologia di materiale, abbiamo delle schede madri, abbiamo delle schede di apparecchiature, abbiamo delle schede di telefonini, abbiamo una esasperata condizione di selezione di schede, ognuna di queste schede contiene del materiale prezioso e non, dove dopo la separazione della Globeco viene mandata in una raffineria per portare chiaramente estrapolare il materiale prezioso, oro, palladio, argento e rame, che troviamo all'interno. Quello che è l'area di soccaggio che vedete ancora qua è la fase successiva dello smontaggio dove abbiamo le varie parti. Signora, poiché io non finisco mai di stupirmi in relazione alle informazioni e notizie che ci sta dando, volevo concludere con un'ultima domanda. Quali sono le prospettive della sua azienda? Le prospettive della mia azienda è sicuramente quella di far crescere Globeco nel rifiuto sempre più ricercato, esasperato, fino ad arrivare al processo successivo. In questo momento siamo nella separazione di queste componenti di cui vengono dati un'altra azienda. Il mio sogno sarebbe quello, con le varie attualizzazioni che spero che l'Italia prima o poi si renda conto, di portare un impianto che possa estrapolare i preziosi addirittura qua a Molfetta. Un'ultima domanda, quando parliamo di rifiuti pericolosi invece? Quando parliamo di rifiuti pericolosi parliamo di tv, di monitor, di frigoriferi per quelli più conosciuti. Per noi stanno tanti altri. Tutto ciò che è plastica contaminata dai fitofarmaci che troviamo in giro chiaramente può essere pericoloso. Alcune plastiche a contatto con degli oli e delle emozioni possono essere pericolosi. Dei trasformatori contenenti PCB può essere pericoloso. La famiglia dei pericolosi è tale da stare molto attenti. È chiaro che anche in questa situazione, in questo caso, è importante avere conoscenza e studiare in continuo anche questo discorso su rifiuti di pericoloso. Allora, ci fermiamo qua amici ascoltatori e per chiudere volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa. Noi con la signora abbiamo concordato di vederci un'altra volta perché naturalmente non potevamo essere completamente saustivi in soli dieci minuti. C'è tantissimo altro ancora da raccontare, da illustrare, da mostrarvi. Lo faremo in una delle prossime puntate. Adesso io non posso che ringraziare la signora Loredana Lezò che, ripeto, in qualità di coordinatrice oltre che di responsabile commerciale della Globeco per la sua gentilezza e la sua costese disponibilità. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento. Grazie a voi, gentilissimi e mi raccomando, differenziate sempre il rifiuto da Monte, quindi da casa. Grazie a tutti.